La nostra prima finalità è quella di far sì che le persone che ci incontrano vanno a casa con un pizzico di conoscenza in più sulla storia di Roma, perché in ognuno di noi c'è una particella di antico romano che si è addormentata, è sopita, è lì da qualche parte e noi quando la gente ci incontra, lo vediamo dall'emozione che suscitiamo, abbiamo la sensazione di vedere che questa piccola particella un po' si sia risvegliata, l'abbiamo riportata in vita, l'abbiamo riportata alla luce come se fosse uno scavo archeologico, la gente va a casa un po' più antica romana di quando è venuta e questo per noi è la più grande delle soddisfazioni. Questo che vedete voi oggi è l'ultimo stadio, la lavorazione e la presentazione poi davanti al pubblico di quello che è la ricerca che poi facciamo e che nasce a priori di tutto, a monte c'è uno studio, lo studio qual è? Dicevamo appunto identificare il periodo che si vuole ricostruire e trovare tutti i tipi di fonti, le fonti quali sono? Sono ovviamente le lapidi, sono i bassorilievi, gli affreschi, i mosaici che sono di quel periodo ovviamente, ce li guardiamo, studiamo i dettagli delle armature, degli equipaggiamenti, li disegniamo e cerchiamo di ricostruirli, a volte ci affidiamo anche le fonti letterarie perché alcuni autori, ne cito uno, Cesare, hanno lasciato delle descrizioni molto importanti che ci aiutano molto a ricostruire determinati punti dell'equipaggiamento del legionario come per esempio la spiegazione che fa Giulio Cesare del funzionamento del pilum, l'asta del legionario che ci descrive molto bene come era costituita, come era fatta e come funzionava e devo dire che nei musei di tutta Europa ci sono dei reperti che sono rimasti conservati benissimo e che li abbiamo esaminati e sui quali ci siamo molto basati per poi fare le ricostruzioni. Tutto viene sottoposto alla supervisione del nostro comitato scientifico che è formato da un'archeologa e da un'antropologa, la dottoressa Lorena Bernardini e la dottoressa Adriana Serpi, ovviamente, che controllano il tutto e poi ci danno il via libera per poter arrivare come oggi davanti alla gente. Noi abbiamo deciso di ricostruire l'epoca dei Flavi nel periodo dell'imperatore Domiziano, perciò ci troviamo alla fine del primo secolo, proprio agli ultimi anni. È troppo facile fare gli antichi romani per noi romani, ma ce l'abbiamo proprio nel cuore e nel sangue, tutti quanti noi. Grazie. Grazie.